Ragazzi, buona giornata a tutti, buon martedì a tutti, oggi è martedì 30 aprile, siamo già arrivati a maggio, domani è il primo maggio, festa dei lavoratori, chiamano diluvi universali in questi ultimi, in questi prossimi tre giorni, praticamente dall'1 al 3-4, quando praticamente sarà il mio compleanno il 3 maggio, venerdì, allora, buona giornata a tutti. Allora, innanzitutto, mettete mi piace al video, mettete mi piace al video, mi raccomando, come sempre, supportate gratuitamente i nostri canali da UMG SQ, in questo caso ovviamente il mio, mettete mi piace al video, mi raccomando, e adesso, dopo aver messo mi piace, possiamo proseguire e continuare con il nostro discorso, che dobbiamo ancora iniziare, quindi continuare il cazzo, dobbiamo iniziare. Allora, innanzitutto, spero state bene, prima cosa, ovviamente, allora io sto, anzi, partirei dal discorso, dall'articolo del Corriere della Sera, perché qualcuno sicuramente sta già facendo delle domande, Corriere penso fosse, sul discorso che la Juventus, allora, io capisco tutto, no? Ma una società di calcio, per carità, poi, ha dimostrato in passato che i calcoli non li ha fatti bene, ma una società di calcio come la Juventus, capitanata, in questo caso, da Cristiano Giuntoli, per l'area sport, ma a livello economico, da gente come Calvo, Scanavino, soprattutto. Può arrivare a maggio, quando probabilmente ha contattato da diversi mesi un allenatore come Tiago Motta, può arrivare a maggio con il dubbio di avere o meno i soldi nel caso in cui, anzi, si spera e si pensa quando arriverà, più che altro, l'esonero ufficiale di Massimiliano Allegri. Quindi, magari, sicuramente, cercheranno di risparmiare un qualcosina, ma secondo me, quando fai queste operazioni qua, soprattutto una società di calcio, soprattutto SPA, soprattutto quotate in borsa, i soldi se li mette a parte per la situazione peggiore, in ogni caso. E quindi, io credo che i soldi, non tanto per Allegri, quanto per l'allenatore del prossimo anno, li abbia già messi via, o che li abbia già messi da parte, a parte appunto il caso Ronaldo, che non abbiamo messo via i soldi, ma con un'altra società, un'altra dirigenza, che, infatti, non capisco come si possa, come si sia potuto arrivare a commettere un errore del genere, ma vabbè. Detto questo, non posso assolutamente comprendere, non potrei comprendere una scelta, una decisione, un gestire le cose in maniera così superficiale da parte di una società di calcio come la Juventus, e da parte di un direttore, di un responsabile dell'area sport, come Giuntoli, e dell'area economica, appunto, per quanto riguarda Calvo e Scanavino, che sono stati messi là da John Elkan, proprio per far quadrare un po' i conti, cioè, non ci fosse stata questa possibilità, probabilmente avrebbero fermato subito Giuntoli, ma, già, da mo', quindi. Mettendo a parte questa cosa qui, che tra l'altro, nell'articolo, comunque, il Corriere della Sera, non riportate tutto, ha detto che comunque il Milan sta cercando sul passo, ma che ormai Tiago Motta avrebbe dato parola a Giuntoli, e che comunque, nelle prossime settimane vedremo cosa succederà, ma che la Juventus rimane comunque nettamente in vantaggio per, appunto, acquisire le prestazioni d'allenatore di Tiago Motta, quindi, va detto tutto, va letto tutto l'articolo. Poi, dall'altra parte, ho letto parte anche del, di quello che ha riportato, Vaciago, su Tutto Sport, e come stanno lottando per trattenere Allegri questi, ragazzi, come stanno lottando, come, cioè, da una parte la critica, perché lo criticano, perché non possono fare altro in questo momento qua, dall'altra però cercano di lottare per tenerselo, per tenerlo lì, per, come lottano, come lottano. Però io, detto questo, non mi sbilancio, perché poi non voglio prendere l'inculata io, su tutto questo aspetto qua, quindi non sto qua a dire, se ne andrà di sicuro, che cazzo dite, tutte queste cose qua, non sto qua a dire, a dire questa cosa qua, anche perché, appunto, io ho degli errori miei, imparo. L'anno scorso ero convintissimo che Allegri se ne sarebbe andato, tant'è che la maglia, la maglia, la maglia di quest'anno l'ho presa perché ero convinto che Allegri se ne sarebbe andato, se non me la sarei mai comprata, ve lo dico qua, infatti, quest'anno, per la maglia del prossimo anno, aspetterò l'ufficialità dovesse arrivare dell'esonio suo e del nuovo allenatore, per poi comprarmi, appunto, la nuova maglia, e nel caso mi comprerò, fra qualche mese, anche la terza maglia, se sarà come, infatti, hanno anticipato. Detto questo, mettendo da parte, appunto, i giornali, tutte queste robe qua, io leggo su X, su YouTube, sui social, vari social, Instagram, i grandissimi, cioè le grandissime sono già vedove di Allegri, queste, le grandissime vedove di Allegri, che non state altro, non state facendo altro che quello che hanno fatto le vedove di Conte, quando se ne è andato Conte e quando è arrivato Allegri, cioè sparare merda a prescindere, no? Allora, stanno già mettendo le mani avanti, Tiago Motta deve ancora, non si sa neanche se sarà allenatore da Juventus, ma nel caso in cui deve ancora, ok, firmare con la Juventus, e questi qua sono già sul piede di guerra per screditare Tiago Motta. Ma è bastato un pareggio con l'Udinese per screditarlo, giusto per. I gol fatti, vabbè, ha un gol subito in più di noi, ok, ha 27 gol, se non sbaglio, e ha due gol fatti in più di noi, e vabbè, ma bisogna vedere la rosa. Cioè io, chi è che ha detto che abbiamo l'ottava, l'ottavo centrocampo d'Italia, l'ha detto Capuano. Ma ci credete alle puttanate che dite? Ci credete? O lo fate perché è il vostro personaggio? Perché almeno, vabbè. Comunque, non è possibile, e io lo so già, lo so già come andrà. Perché quando se ne andrà Allegri, e dovesse arrivare un altro, e non togli mettiamoci Tiago Motta, il prossimo anno ha i primi non risultati, gli allegriani, perché rimarranno. Quindi la divisione non è che sparirà una volta che arriverà appunto un nuovo allenatore. Semplicemente, ci sarà meno gente appunto divisoria e divisa, perché dovesse arrivare Conte, e siccome la cosa sarebbe leggermente diversa. Però gli allegriani rimarranno. Gli allegriani saranno lì, con la scusa di essere risultatisti, ma sono allegriani, perché tutti siamo risultatisti. C'è chi lo è a breve termine, chi lo è a medio-lungo termine, ma lo siamo tutti. Siamo lì proprio pronti sulla riva del fiume ad aspettare appunto che Tiago Motta sbagli qualche scelta, sbagli qualche partita, non giochi bene qualche partita, perda qualche partita, e alla fine magari non vinca niente. Quindi questi saranno, cioè io ad esempio ho tifato contro Allegri, non contro Juventus, ma al dia di Allegri qualsiasi altro allenatore che arriverà alla Juventus lo tiferò. Voi invece fate l'inverso. Voi avete tifato, non Juventus, avete tifato Allegri e ti farete contro qualsiasi altro allenatore che arriverà al posto di Allegri. Quindi siete voi che non tifate Juventus, non io. Perché io non è perché Allegri ha perso, ha vinto, no. Sapete bene il mio discorso qual è su Allegri, il discorso del tenerci in ostaggio, del sentirsi sotto scacco di un tesserato e tutte queste cose qua. Quindi qualsiasi... Guardate, anche dovesse, io spero di no, ma anche dovesse tornare Antonio Conte, ma a tutti do il beneficio del dubbio, anche dovesse tornare Antonio Conte lo tiferò. Ok? E qua si vede la buona fede. A differenza di quelli che sono Allegriani e che tiferanno contro, magari non direttamente lo nasconderanno, però appena perderà qualche punto o farà qualche prestazione indecente Tiago Motta, perché non pensate che al primo mese o al primo anno si veda già... ma non si vedrà mai il gioco che ha fatto al Bologna. Si vedranno delle idee simili a quelle che ha avuto a Bologna. Nessun allenatore ha mai fatto lo stesso calcio. Neanche Guardiola dal Barcellona al City ha fatto lo stesso calcio. La stessa mentalità ce l'ha avuta, sì. Tiago Motta avrà la stessa mentalità sia al Bologna sia al Juventus, si spera di sì, ma non si vedranno gli stessi dettami tattici. Ok? Questo bisogna sottolinearlo. Però saranno lì, sulla riva del fiume, ad aspettare le prime nefandezze, ecco, chiamiamole così, di Tiago Motta per saltare fuori come funghi, come topi, per screditare Tiago Motta, per attaccare Tiago Motta e riesaltare Massimiliano Allegri, perché con Allegri questa partita qui l'avremmo vinta. Io mi ricordo quando c'era Pirlo, che si diceva questa stronzata qui, quando, diciamo, Pirlo perse col Benevento, faccio esempio, io mi ricordo i commenti, ma con Allegri questa partita qui non l'avresti mai persa, no. Salvo poi perdere contro Maccabi Haifa, contro Monza, contro tutte le squadre in serie, contro il Sassuolo, che, vabbè, una, sì, per carità, una l'ha vinta anche con l'Inter, ma l'Inter, quantomeno, poi alla fine ha vinto, quindi un insieme di sconfitte contro squadre, hai pareggiato col Cagliari, hai perso con l'Udinese, con questo Udinese qua. Io vi ripeto e vi ricordo che all'inizio dell'anno, e non mi sono mai sbilanciato così con una squadra da salvezza, all'inizio dell'anno, quando noi vincemmo 0-3 a Udine, vi dissi una cosa, e il video è lì, il giorno dopo dovete andare a vedere, non il posto partita, il giorno dopo di Udinese-Juventus 0-3. Ho detto, ragazzi, è stata una prestazione discreta, al primo tempo è stato discreto, non è stata una grande prestazione contro un Udinese, che mai come quest'anno, ma non perché aveva perso 3-0 con noi, ma perché vedevo una squadra scomè non organizzata, come negli anni passati, mai come quest'anno lo terrà fino alla fine per salvarsi, se non addirittura retrocederà, dicevo questo, ok, vabbè, poi ognuno alla fine sbaglia, zazzecca, quindi ci potevo anche sbagliare per carità. Comunque, voi non siete Juventini, voi non siete Gobbi, chi è già pronto a screditare, chi già sta screditando Tiago Motta e deve ancora, non si sa neanche se sarà l'allenatore da Juventus, magari poi non viene a Juve, va da altre parti, Tiago Motta diventa, secondo questi allegriani di merda, il migliore natore del mondo, ok, perché poi magari farà bene da altre parti, grande Tiago Motta, perché non l'abbiamo preso noi, tutte ste robe qua, perché poi magari a posto di Allegri arriverà un Palladino, arriverà un Conte, arriverà chi cazzo, un Gasperini, verrà criticato quello natore là che arriverà a posto di Allegri e poi si esalterà invece Tiago Motta che è andato da altre parti, però nel frattempo lo si screditava, non perché era Tiago Motta, perché sarebbe stato il sostituto di Allegri, tutto lì. Voi siete in malafede, siete prevenuti, non siete credibili e non volete il bene della Juventus. Voi siete anti-Juventini, peggio del peggiore anti-Juventino esterno. Voi siete come Allegri, un anti-Juventino e siete degli anti-Juventini infiltrati. Questo è il problema vostro. Voi non siete gobbi. Non siete gobbi. Quando date patenti di tifo, siete i primi a non esserlo, ricordatevelo. Perché se dobbiamo scendere a patenti di tifo, mi abbasso i vostri livelli, ma come non la sfangate, ragazzi. Non siete gobbi voi. Siete tifosi di Allegri, siete tifosi di alcuni tesserati, siete tifosi, siete amanti, diciamo, di alcuni soggetti. Ma non siete gobbi. Perché chi ragiona così non è gobbo. Già il fatto di chi vuole la permanenza di Allegri per me non è gobbo perché non vuole il bene della Juventus. Vuole il bene di se stesso, delle proprie idee e di Allegri. Questo è. Siete un po' come Galeone, no? Solo che Galeone, quantomeno, l'ha allenato. E si dice, vabbè, è amico suo. A meno che non si alzi tutti amici suoi, non so cosa vi dà. Detto questo, ragazzi, io vi auguro buon martedì a tutti. Ci vedremo probabilmente per il postpartita di Bayern-Monaco-Real Madrid. Non so se giocano a Monaco o a Madrid. Vabbè, vedremo. Partita che sinceramente a me non è entusiasmo. Poi magari sarà una partitona, però non mi emoziona. Perché le squadre che volevo non ci sono. Cioè Arsenal City, Barcellona, quest'anno non... Barcellona, siccome se l'è mangiata, perché poteva benissimo qualificarsi. Il City anche, per me, contro Real. E l'Arsenal, comunque, non essendo la favorita contro Bayern-Monaco, siccome se l'è giocata bene. Anche se manca un po' il salto, no, di mentalità all'Arsenal. Ed è sempre quello il limite di quella squadra lì. Ed è per questo che, secondo me, alla fine... La Premier purtroppo non la vincerà, anche se simpatizzo Arsenal e spero che la vinca. Questo è quanto. Quindi ci vediamo stasera per il post-partita di Bayern-Monaco-Real Madrid. Sempre e comunque, fino alla fine... Anzi, no. Fino alla liberazione della Juventus. Io, ragazzi, chiudo dicendo anche sul discorso delle notizie. Io ogni tanto riporto, adesso sto riportando un po', ho riportato anche quello che ho detto a Gresti, che non ci sono incontri previsti, anche perché la società ha già scelto. Io adesso mi prometto e vi prometto che non riporterò più nulla sotto questo aspetto qua. Aspetterò. Perché è inutile stare qua, perché da una parte ci sono molti che dicono che Allegri è fuori, dall'altra c'è qualcuno ancora che dice che Allegri addirittura potrebbe rinnovare. A me non risulta, però è inutile qua fasciarsi la testa, andare dietro a uno o all'altro, preoccuparsi o esaltarsi a seconda di chi dice, di cosa dicono e quant'altro. Adesso, ragazzi, c'è solo una cosa a fare. Aspettare. Purtroppo. Io non sono una persona paziente, però c'è da aspettare. Vabbè, dai. Fino alla liberazione della Juventus e speriamo arrivi il primo possibile. Che sarà una data da ricordare, quasi come una Champions League. Pensa come ci hanno ridotti. Perché è così. È così. Sarebbe, qualora arrivasse questa data della liberazione da Allegri, sarebbe proprio una data da ricordarsi, perché sarebbe il trionfo del vero Gobbo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.